Entrerà in vigore a partire da questa sera il nuovo slittamento orario che interessa il coprifuoco. Anziché dalle 23 l'inizio del divieto di spostamenti, diversi da quelli lavorativi di salute o necessità, sarà posticipato a mezzanotte e rimarrà attivo fino alle 5 di mattina. Un nuovo allentamento di una delle misure restrittive più discusse e attualmente in vigore, che verrà abolita a livello nazionale dal prossimo 21 giugno, possibile data in cui le marche potrebbero fare il loro ingresso in zona bianca, la fascia di rischio con minori regole e restrizioni. Nel frattempo però continuano anche sul nostro territorio i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-covid. Nell'ultimo fine settimana alcune sanzioni per assembramenti sono state elevate soprattutto nella zona mare, dove anche per qualche locale è scattato l'ammonimento a causa della presenza di troppe persone. Monitoraggio sul territorio che è stato intensificato anche in Romagna, visto il flusso di turisti e giovani giunti in riviera già dai primi giorni della stagione. Nel corso del servizio operato dai carabinieri della compagnia di Riccione, un 23enne pesarese, sottoposto a controllo perché sorpreso in zona porto a Cattolica, oltre l'orario consentito dal coprifuoco, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha assunto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti dei militari fino ad aggredirli fisicamente. Azioni che hanno costretto i due carabinieri ad ammanettare il giovane, a dichiararlo in arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale, e a condurlo in caserma.